un ragazzo una ragazza si conoscono in crociera la sera stessa presi da una tremenda passione si ritrovano a letto dopo una notte infuocatissima il ragazzo vede che la compagna si lamenta dolorante alle parti basse allora le si avvicina e le fa tesoro scusami tanto ma se avessi saputo che è rivergine ci avrei messo più tempo e lei caro mio se ci fosse stato più tempo mi sarei tolta e collant se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis